giusto sicuramente ok siamo in live fermo la trasmissione ok vai 10.000 di bitrate questo è solo di destiny perfetto ok ricezione dei controlli in corso ricezione delle patate in corso ok ecco qua ci siamo si vede bene si senza lag perfetto ok perfetto e sti cazzi bella Emanuele Dani Daemon vabbè no il fottio siamo in live benvenuti ragazzi buonasera 4k c'è un po' di vento sul tuo microfono non lo so senti ah ok ciao Serena ciao Antonio Mike07 la figa power sempre 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 giusto ragazzi ero in live così perché volevo fare una live e volevo un po' cazzeggiare con la macchina nuova e niente niente di che poi facciamo anche ciao Camorra facciamo anche qualche attività e voglio provare anche la competizione nuova che è uscita ieri dove ho notato Gigernaut che stanno cose varie però non l'ho provata ancora no assolutamente la competizione no la macchina ma infatti ieri ho detto non compratela perché praticamente è un po' non è che mi piaccia no è un armace niente di che ok allora ragazzi sono un dj se volete intro grafiche anche i dj fanno le intro le grafiche così giustamente varoi e vabbè ciao Andrea ciao Nunzio ciao The Boss ragazzi siete già assai non riesco a salutare tutti ciao Andrea comunque spinnato e tu devi salutare tutti si si devi farlo questa macchina è inutile che io poi la venderò più là sicuramente perché non arriva neanche una turismo di velocità quindi se la compri la metti in garage e fai la polvere vabbè per il collezionismo comunque niente di che poi non so perché gli americani ieri hanno fatto dei video del tipo non comprate questa macchina non so perché warning cioè quelle robe là non è che c'è i virus non lo so ma manco io ciao Matteo Domenico Vale Andrea va bene calmo vieni dici roberto andrea armando andare a vedere live di x leva che sta spamming international si vede molto bene 12 mila di bit ho messo la stessa risoluzione di destiny 2 dell'altro giorno senza problemi poi ti dico aspetta ti dico precisamente la cpu 20% con la webcam in hd il gioco in full hd più tutte le robe sullo schermo 20% ok è già troppo non mi piace è già troppo troppo così allora ti avevo scritto su telegram mi hai risposto su telegram non rispondo a tutti vale perché sennò un fottio diventa assolutamente allora ragazzi comunque sono in sessione ad amici quindi potete unirvi siamo già in 10 quindi ci sono 20 posti liberi e vabbè l'id sta in descrizione se volete aggiungermi aprite la descrizione che sta l'id ragazzi semplice 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 qui ho messo la maletta rosa perché sono fashion blogger oggi capito minchia posso entrare nella crew si la seconda ma tu potessi ragazzi anzi ma sai che faccio no non lo voglio sapere ma sai che faccio adesso mi fermo un attimo e accetto le richieste della crew dalla playstation veloce veloce qui ho crew richieste 10 ok la accettiamo subito dicono che le amici c'è piena no no non ce le ho piene ragazzi non ce le ho piene calogero bilone alex le amici c'è piena no assolutamente no ciao calogero ti ho salutato aspettate un attimo raga che accetto le richieste della crew ok non male che da qua è molto rapido accettarle cioè sul social club è tutto buggato completamente tutto buggato proprio completamente ciao alex salvati cantando il coccodrillo come fa stavo leggendo mi rovino la reputazione poi c'è il coccodrillo come fa vedi c'è il mio cantante personale come ti chiami su psn raga e lì questo va stavamo parlando della macchina raga non c'è neanche bisogno che vada a fare gli speed test perché è lenta già vedi che è lenta cioè tu rispetto una turismo un inferno vabbè la città non la mettiamo manco a confronto quella là proprio brucia il culo proprio in una maniera incredibile c'è lupo 910 non c'è proprio bisogno di fare gli speed test raga è lenta di su poi un milione di dollari per una macchina così io l'avrei fatta almeno 500.000 non di più proprio perché è una sportiva classica 500.000 se no anche di meno perché poi è lenta cioè fosse bella veloce non è quello non è quello ma poi non usiamo neanche ciao camo non usiamo neanche capire le sportive classiche nelle gare quindi non c'è un po' senso e il coccodrillo come fa? ok un attimino devo vedere che sono i priority si sono tutte e tre perfetto eh sì sì ciao serviane Alex tu con l'XA21 quando bordello farai e poi secondo me sarà la T22.0 hai ragione Mike perché io su PC l'ho provata ed è una roba illegale quella macchina lì sia di estetica che di prestazioni ma dice che uscirà il 22 agosto quindi non è per mo' sarà l'ultima macchina che uscirà di martedì l'ultima proprio così la Rockstar prima mette le merde e poi mette le cose buona vabbè non proprio a merde perché deve uscire ancora l'insurgente quello là nuovo poi l'insurgente non è uscito no non è uscito ancora solo la cari in tecnical amora con questa voce da barbone qua mi sono svegliato 10 minuti si sente ah lento nel party fede non è in party no non sono in party ragazzi non ne uso party mai non usa mai party io uso il team speak che è un altro mondo è un altro mondo si 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 chiama si scrive T I E S S T S T S quale sarà la prossima macchina ragazzi dovrebbe uscire il night shot quello lì quella specie di insurgente nuovo che io lo farò proprio da marro ai livelli proprio esagerati lo farò bianco arancione fai 7 di potere ma che cazzo il bordello la cigetta che già c'è là quello su PS4 dice che c'è un'attività che la puoi usare tutte le macchine no io ti do tu rimasto no su qua no sì c'era sulla 4 cioè sulle mod allora no no c'era un metodo con un'attività tipo ah che lo spawn no vabbè non ne so niente no no che l'avevi pure in primo modo no non ho mai sentito sta cosa vabbè là non mi interessa tanto prossima settimana sento che esce proprio l'insurgente l'insurgente che cacchio è scritto insurgente ah io giusto per provare la velocità di sta macchina per farvi vedere quanto fa cagare la velocità farei una gara rockstar quelle lì che si possono mettere le macchine sportive quelle proprio dritte e farvi vedere che io rimango dietro e poi andata avanti cioè semplice semplice oppure una pegassimo ru della ps3 quella la che ancora si può comprare più veloce di questa macchina quindi o una corbet una coquette classica quella roba là tutti più veloci c'era veramente può essere di potere no modalità di la facciamo dopo raga ma proviamo un secondo la voglio vedere che cosa questa macchina è inchiodata a terra madonna ma se ci do un calcio nel culo si muove vabbè dettagli io non riesco a trovare un lungo viaggio 2 non la riesco a trovare cioè quella la facevo sempre su ps3 mi mettevo a fare i test proprio con tutte le macchine sai no però non la trovo perché mi ricordo che era verificata la roxa ma non c'è nella verificata perché si è scarso hai visto sono scarso a verificare la roxa eh sì a dove sta andiamo al mare quella la tipo domani domani andiamo al mare poi andiamo tutti a mare domani sì raga ma accettiamo anche l'amicizia appena entriamo in gara le accetto un attimino ma non accetti ma la mia sono a me ma non ce l'ha ah lui l'hai qui l'industria a casa sai capi eh sì non lo sapevi c'è l'industria comunque ragazzi spolliciate lasciate tutti un like condividete il video ai vostri amici mi raccomando il video la live il video camo tu si riesci a mettere la mano sul telegram tu scarica di caffeina che bel nome drogato di velocità ma se vedi ammetto questa tipo mi banano la live perché c'è chito drogato eh sì da per averlo detto ciao alessio ciao samuele ciao nicolo bella bella ciao a tutti ragazzi per quelli che state entrando in questo momento ciao a Vincenzo io ho la psa non trovo la gara andiamo al mare ti giuro perché la rockstar non è sì a mettere le gare in ordine alfabetico no tutte sparse così a cazzo capito eh volivi vanno indietro ci stanno indietro in tutti i giochi però veramente non c'è ordine non c'è proprio ordine forse naturale che puoi dire che ti salvi sono in ordine alfabetico questa no Ale sono cose che non ti devi chiedere facciamo di nuovo route 68 che è bella dritta è l'unica che riesco a trovare qua Ale posso giocare con te parli nick dopo unisciti se vuoi alla mia sessione ciao deni and youtube prossima settimana esce l'insurgente nuovo e poi l'hardent credo sia così l'ordine ah c'è l'hardent pure che sta in quell'altra cosa ma cos'è l'hardent non mi ricordo è quella macchina che sta all'attività proprio sulla 4 l'ho fatta pure io che spara i missili ah si ho capito non ti diche non ti diche speciale mezzogiorno sereno traffico no veicoli allora i due giocatori in coda no mettiamo solamente la scia anche se manco allora raga vi invito un attimo voglio provare un attimo giusto questa macchina qua a velocità di merda di merda di merda ti devi spaventare ok ti devi spaventare mi unisco ok vincenzo riccio bella vincenzo mi saluti canadese personale di alex ma io voglio capire in che linguaggio scrivi comunque ragazzi iscrivetevi al canale che uscirà il vostro nome sullo schermo e anche a destra lì nella lista blu allora no mi saluti tu in sottofondo 1 in sottofondo 1 in sottofondo 2 in sottofondo 3 mi saluti canadese personale ideale giustamente che cazzo dettagli ah beh verso che ora finisci cominciamo ma io non voglio c'è gente che entra per chiedere qui la cresce la vai ma qual è il senso potete la vai finisce quando voglio a chi sto a parla cioè non è che mi metto gli orari impostati capito lo devi lo devi va bene va bene devo metterlo sullo schermo la vai finisce alle ore capito metto il counter quello a scalare impara a scrivere dopo modda ah ok sì è una persona sì Cle è un amico un fan sta pure qua nella gara con me allora io ragazzi quando che entrate anche se sarà un puttanaio sta gara perché non ho messo ho messo le visioni quindi sì napoletano così sicuro che è napoletano no non sono napoletano ragazzi chi è napoletano roba quando esce il dlc eh ho chiesto a mia madre ieri ma non mi ha saputo rispondere vabbè comunque ragazzi entrate tutti vi sto invitando ti vuole ah no oh Dani c'è tutto cazzo un shakusha beh dai se non posso venire sto facendo il nuovo glitch ok cazzo accettiamo sette zitto accettami l'amicizia su play 4 mi chiamo un po' come on 46 no perché 45 no 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 non è quello il problema che amore è un altro però lasciamo stare eh vabbè lo so lo so allora eh stanno entrando sì è che non ti piace il 46 tipo vale 46 da niente addio eh ci lascia ci lascia mi dispiace ci lascia no io ti lobbavo una volta sì chi ha ps3 mi invia la richiesta amico così così no no io ho pensato ma veramente la gente avrei paura di andare su ps3 tipo dopo due anni che cosa dovevi ritrovare no i palazzi che si muovono secondo me stanno pure secondo te ci sarà ancora una mappa non c'è la mappa non c'è qui non carica le auto no vabbè meno male che non ho fatto più aggiornamenti già che stavo messo proprio male stavo messo male proprio non legge lasciate in questo momento non ho letto già ok dovrei chiudere il canale solo per quello che ha scritto ok adesso fai un completo dell'hiv non so già l'ho già fatto ma non ce l'ho messo perché sono due ragazzi sono due si per forse informazione ho cita mamba morro torero ah citti questo fai schifo stai citando infatti la procedura torero non ha proprio l'attacca finale per quello voi mi insultate me ne vado e mi descrivo lascio dislike e addio va bene ciao ok ciao da niente ciao io non so perché faccio la live si descrivano 4 persone così così capito uh ragazzi iscriviti mi raccomando ovviamente c'è pochissima gente perché l'estate secondo me è meglio non fare youtube io l'ho sempre detto l'estate non bisogna fare youtube no non l'hai detto cioè l'estate 4k se vuoi fare youtube è che devi andare negativo capito a meno che non fai non fai video clickbait si 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 potevo scrivere tipo redux mod su ps4 4k si si poi vedi che arrivano le persone ma con il personaggio partiamo ora mi fanno subito sbandare eh si voi mi insultate va bene ragazzi siamo partiti con questa gara vediamo c'è già la scia che mo mi superano in un secondo l'avevo messa così però scialla con dettagli dettagliissimi caffè quanta gente ti hai trovato se si chiantata tipo il primo obiettivo l'hanno già fatto capito urtarmi così sbando così faccio l'ultima posizione tu non lo stai fatto quando fai una gara quale qualissimi l'obiettivo prima è spingere il primo così se ne va a dire non che lo superi per no bisogna spingerti bisogna spingerti no è quello l'obiettivo vedi come faccio io prendo la scia ne vado a destra e lo superano boom la spinta comunque vabbè di scia si riesce però per tirare questa macchina ci vuole un bel po' di tempo cioè non è che tu dici che è reattiva e riesce a superare no non riesce a fare tanto niente di che comunque tu in sottofondo tu non mi hai scopato scopanto ma che è mi devi mai con mozzo questo ma io ho scopanto qualcuno scopanto è la panto quella scopa scopanto esiste il dizionario però diciamo il dizionario guarda scopare il dizionario Andrea no perché in ogni live mi insultano sempre guardate quelli di avanti non stanno proprio bene si stanno scannando a vicenda sì quella è la città classic blu che l'ha fatta proprio bene eh difatti è figa quello c'è gente che sta sbando guardate che se ne sbando terzo posto sto eh tutti gli altri a sbando a strattonarci non si capisce niente io tranquillo è il sottofondo cioè io io non sono una persona che non sono un esempio io non ho messo aiuti giocatori in cuda io non posso mai raggiungere non potrò mai raggiungere quello là a meno che lui non va a sbandare perché la macchina non tira proprio questa qua ma che sta mappato pure casa mia stanno venendo a prendere basta ah lei puoi salutare bella bella oh ciao ragazzi terza posizione gli altri si sono scannati ma attendi secondo me fuma ho rotto la tua bambola ma che cazzo ok terza posizione no no primo sennò non sei nessuno no 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 mi disiscrivo se non fai primo comunque ragazzi iscrivetevi al canale condividete live ai vostri amici mi raccomando e lasciate un bel like light stavo dicendo bella IG steenfly ciao ciao Diego stama 04 bella un milione di scritti taglie si diego domani tac un milione di scritti domani subito subito proprio e arrivo subito io yes mi ha fatto arrivare al rango 520 su ps3 e mi sono rotto il cazzo di questo no mi sono rotto le palle faccio io aspetta tumoricchio all'occhio faccio io fatto da io ah ok sospensione doppia tipo tuttum infatti no sospensione sta gente con la coquette classic modificata che tipo sta con il carretto che la tira dietro ragazzi se vi iscrivete diventerete nutellini capito il sottofondo si chiamano adriano e 4k no sono camorra e 4k adriano non ci sta ragazzi perché adriano è un nutellino denny end ricorda di fare la blue whale perché perché allora no adesso se te c'è piccolo Alex si si mo tipo un cubine dentro casa tipo scrude il modo dietro l'ho culminata dietro si vede comunque si vede bene l'alto decimo minchia si 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 vede abbastanza il 4.0 di bitrate si vede bene il 4.0 10.000 così a caso no no 1.0 1.0 Alex l'ornitorinco illegale eh che cazzo ok faccio la storia ciao massimo ciao raga mi raccomando iscrivetevi lasciate un bel like per il supporto ragazzi come avete visto ci sono 50 persone perché tutto il canale è inattivo perché ovviamente l'estate si dimentica proprio tutto si dimentica però io comunque ci sono allora comunque calogero in furna mandamela tu la richiesta capito? è lì in descrizione si 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 puoi gli occhiali Cristo sono sportissimi a confronto a una fogna che pulita no leggi i miei commenti mi disiscrivo che è una minaccia ma non è che se tu si iscrivi mi metto a piangere sinceramente non mi cambia niente la vita cioè perché hai bisogno di attenzioni si si oh dissing dissing mi saluti ciao rio king bella allora ragazzi devo fare la storia su instagram il mio instagram in descrizione seguitemi che faccio la foto raga non gioca più su ps3 basta cioè non la usa più la usa come super mobile come la 1080t la usa per fermare la porta giustamente ok siamo sponati direi di provare la nuova competizione già mi hanno detto che non è tanto bella però proviamo lo stesso c'è lo daniel andiamo a fare pure benzina sta alla passiva si minchia devo anche fare benzina aspetto allora vediamo se mi avete mandato le richieste di amicizia oh emanuele vuole botte l'expulsa aia aia è su ps4 più più la pronti non ci sono richieste no ragazzi non no io oggi ho scoperto delle cose ho trovato un canale youtube americano che fa praticamente le graphic comparison tra pc ps4 vabbè ps4 pro no la differenza tra ps4 pro e ps4 è di un cazzo cioè non io ho visto destiny 2 su ps4 pro e ps4 la differenza del 10% buono per una console buono è pochissimo uno se deve passare la ps4 normale la ps4 pro no ma perché secondo me devono aumentare gli fps per questo è come la grafica uguale sono uguali ho visto identico è grande quello che ti ha fatto esplodere molto bene ma stavo pure in passiva capito ha fatto esplodere la benzina vabbè io no se la beta di destiny è finita si sono si è finita è finita ma su ps3 stanno ancora grandi capolavori manuele spati volevo dire grandi capolavori come si chiama la competizione nuova si ma quel 10% cambia no Simone tranquillo no è un cazzo cioè non conviene no cioè allora la differenza destiny 2 su ps4 normale ps4 pro è in 4k ok chiaramente devi avere il televisore che differenza c'è la luce è più forte il riflesso è più forte il riflesso dell'arma è più forte nitidezza identica alla ps4 non è che sulla ps4 si vedono male le armi anzi è uguale capito la differenza invece è con il 60 frame la vedi la differenza già con gli occhi la vedi come è che si chiama si chiama sete di potere sete di potere andiamo a fare subito sete di potere eccola qua negli affari così come negli sport sanguinolenti avere il coltello della parte del manico è l'unica cosa che conta sfida delle altre squadre per ottenere un pesamento fondamentale saranno quelle altre cose che vabbè ma andiamo a vedere come funziona una bella la 3 la 4 la 5 questa qua facciamo questa facciamoci questa qua eccomi io amico ps4 pro o ps4 normale se tu non hai la ps4 ti prendi la pro è ok ma se devi passare la ps4 normale la ps4 pro non ho non spiego gli soldi a meno che non la paghi un caso solo per una risoluzione più grande e fps in più non ne vale vabbè stavo guardando Tekken 7 su ps4 gira 60 fps e sulla pro pure però sulla pro è il 4k cioè è quasi uguale capito che cosa mi sembra che è il 4k più di 60 no no 60 devi vedere se avere il post bloccato allora quando ha il jag che fa proprio il testo dei ntps c'è il grafico tipo con la barra verde che appena c'è uno scopo e si abbassa poco poco va a 52 58 e gira uguale identico alla ps4 pro brutta bustata dico quando ha il juggernaut puoi prendere l'aerican attenzione invitiamo la gente io non so come si dona scusa basta no basta in descrizione ragazzi che mi crei donazioni siamo in live mi manchi Adriana Arianna scusa Adriana non ci sta Adriana io volevo streamare Adriana ha detto devo farla io non ho fatto niente e non ho streamato più per colpa sua quanti giga ha l'aps4 in che senso di spazio c'era da un tira c'è ancora mezza mezza play libera oppure puoi comprare un al disinterno con il nuovo sb come farò io ok ho messo su instagram ragazzi tutte e due accette le amicizie si raga atta un secondo oh accettate le amicizie eh oh schifo una o due tipo guarda accette le amicizie non ne ho capito bello chissà chi l'hanno mandata le amicizie ma giochi su PSP o PS4 di un bel coro trattando 5 minuti allora cos'hai Alec 4k c'è la PS4 la PS5 io la PS7 cosa vuoi quella pro è anche slim ah ecco la PS7 pro cosa vuoi niente la differenza nei video che ho visto stamattina mi stavo guardando anche addirittura sulla nintendo switch io ero a 60 fps i giochi non me l'aspettavo proprio questa cosa qua ti vedi Mario Kart fluidissimo ho visto in full hd 60 fps sulla nintendo switch che cazzo ti vedi l'acqua si vede benissimo tutto non so sulla switch 60 fps sulla 4 non li legge su tutti i giochi ti rendi conto sulla switch ma guarda che molte volte l'ottimizzazione cambia tantissimo si vabbè chiaramente Mario Kart non è che sia pesante però ho visto anche Zelda che comunque c'è una bella grafica in 60 fps ma Zelda quando ti provai sull'acqua lagga un bel po' ho visto dei video questo cavolo è il gatto Zelda era molto fluido molto molto fluido comunque proviamo questa competizione qua tutti da una squadra mia scommetto guarda vedi classica cosa ti dicono quando hai la cosa ballistica l'attrezzatore ballistica puoi utilizzare la mia ah ok raga non l'ho mai fatta quindi mo perderò sub cioè devo capire un attimo come funziona quindi ah no basta cioè basta non so giocare se ho un hub vai via ovviamente devi passare il camera la spazzatura sotto casa fai il casino della madonna capito eh sì ok vediamo un po' siete di potere ma giochi su intendo da un bsp lasciamo stare allora i giocatori che raccolgono i pensamenti si trasformano e fanno aumentare il punteggio della squadra oh perché ci devo trasformare ah bisogna prendere oh però non creepano eh ho capito che c'è la ringhiera avanti classico di gta che non creepano i giocatori però mi ricordo sulla 3 le bestemmio poi vuoi surribere vogliono subito usa il laser vaga come dobbiamo usare il laser cioè laser nell'attività il laser che cazzo è oh lanciarazzi che cacchia che c'hanno c'hanno eh pendone amiche veramente mettono sto cazzo di ak di merda che non vale niente io lo odio questo fucile lo odio veramente non fai danno eh la mira la mira a puttane muori eh minchia eh che cazzo però non faccio un deathmash su ps4 da quanti anni madonna io voglio la ps4 la ps4 pro da 27 tera 27 tera sì poco sì sì poco poco prendi il jag e ragazzi devo prendere il potenziale non è che è semplice che dico prendi il jag e l'hanno già preso prendi il jag pronto nel jag nel jag ho vinto c'è finito nel jag nel jag c'è finito nel jag no ho vinto io l'ho preso ho preso il jag terminito cioè l'amicizia la rialgan l'invito è una cosa casuale cioè lo manda gta è una cosa casuale non è che invita cioè è una cosa casuale no bordello oh è vero il jag mi sa che c'è la mira un po' troppo sensibile no cosa l'hai visto sì ma no c'è la mira sensibile tipo muovo si muove tutto il coso è dall'altro lato è cristo vabbè dai beh manuele con 27 tera sì ci ho mettuto i giochi che vuoi cioè guarda che però la fine è lo spazio è incredibile c'è un bordello fuori casa comunque stiamo vincendo si sente da qua c'è ho il camion della spazzatura sotto casa che fa un casino di dio fa eh dio fa casino mi va da fastidio no ma un po' in sottofondo si sente mi devo guardare l'arma è bello ok ti ho ucciso alla fine mi sa Ale ma vai a mani nude da cazzo duro contro il muro no sì sì ma vado però a mani nude su cistiaca dove è il bagno? col coltellino tattico col coltellino spacco bottiglie ma sono famiglia ma sparo con una che figlio di puta no dove è il tuo famiglia? dai lo stavo killando uccisione assistita sì 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 allora si metteva un fucile decente no in questa come ha fatto a salvarsi? cioè in due contro uno si salva tipo non so come ti giuro prendi la cabina scusi mi sparò in due muri eh vabbè il Giger nato a fianco ok no ti tu mi vedi a fianco che mi sta sparando a fianco così e non mi killa manco bello ma non è che cazzo stai dicendo basta che l'unico esterno lo bello attaccarmi a Mr.Mans sì c'è bisogno che compa quell'interno al campo ok ci sono muri eh da là non prende tipo che uno è in pausa stiamo praticamente facendo tante di quelle kill eh io non hai idea madonna Andrea puoi prendere anche la carabina raga però io stavo andato di violenza con il Kalashnikov perché io sono dell'Isis capito dettagli Alberto per l'anna punteggio 33 uccisioni 7 ah perché ovviamente vabbè ho fatto poche kill però 33 punti quella fa 20 dimmi questa modalità qua è come il juggernauto normale alla fine sì più o meno nel senso però vorrei cambiare arma perché veramente sto fucile non fai niente capito cioè è molto irreale tu lo spari in testa non è che ci criba capito vedi tutto lo spatti in patto e continua a spararti nella prossima attività invitata mi chiamano qualcun mozzo 46 ma le cose sono casuali quando inviti tutti gli amici le cose sono casuali non arrivano a tutti cioè arrivano a chi vuole guarda che non cribano cioè gli spari in testa non muoiono minchia si chiama lag ma che lag è possibile io sicuramente non sto laggando quindi 200 miga sull'apri devo laggare non ho capito sì è una connessione di merda certo devi mettere la giga ah è perché quella giga e anche il teabit proprio direttamente il teabit voglio le armi donna ho dato questa voce voglio le armi mi trovo sempre andrà spinnato contro non lo so dove trovare ora mi sparano niente oh sono morto quando ho preso il juggerna cioè mentre stavo entrando nel panizzamento mi hanno ucciso bello bello vai ma tu entri tutto entro in tutte hanno preso gli altri il juggerna cazzo tanto è morto non c'ha vita l'ho ucciso io il juggerna ah ah bellissimo è molto esentifico ho ucciso il juggerna da quante parti mi hanno sparato è in due figurati a terra ci stanno le armi sulla mappa in questo momento non mi sono accompagnato a parte il pompa che sta in fondo là che non mi interessa ecco 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 la carabina vai la carabina speciale aspetta ok ciao 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 a dopo a dopo eh sono lontanissimi crepa c'è quello c'è quello manco ti avviso proprio così no mi stavo un attimo concentrando in silenzio alex è un bravo ecco ecco con la carabina ci siamo uccisi insieme bellissimo ci siamo uccisi insieme allora ma la carabina è una buona arma stiamo comunque vincendo noi ma la carabina speciale è la classica una buona arma un'arma buona mi voglio una buona bella sta carabina eh guarda che non crepa da lontano non fa niente con l'arma c'è niente te lo giuro vedi il cecchino giurolo però no sai il cecchino quello là che devi usare 50 colpi per ammazzare la gente sì quello sì nel bot nel bot nel bot in bot in bot bello è molto male oh sbaglio ho preso il pompa eh però da lontano questa l'altro giorno ho giocato un gioco che il pompa da lontano è come se fosse un cecchino riuscire a beccare comunque la gente allora il pompa cecchino e dice abbiamo rivinto di nuovo vai dai così ma è strano che non commenta più nessuno niente so perché vabbè animati bello mamma mia che devassa assurdo oi non ho vita non c'ho vita proprio niente tagli ok ti fa un po' di scelta è da dietro ciao christian aperto per lan ye ye ha fermato la tua serie di uccisioni aia ciao christian ciao mattia mattia ciao christian bella bella raga bella ciao simone ma questo le armi ti rimangono ecco qua c'è la cosa buona io non so dopo fai i bersagli acquisiti uno mi era sparito il birino perché che cazzo tagli oddio abbiamo vinto raga abbiamo vinto la minchia 29 mila dollari mortacci 3600 rp minchia minchia non sono pochi raga fatela per i soldi cioè vi vediamo un fottio di soldi minchia 30 mila dollari che? io a tanti a me servono i soldi ho detto non è che sta nei doppi soldi sicuramente si 12 kill punteggio zero perché non ho proprio preso il coso vabbè niente di che ciao marco beh si tommaso inviagli l'amicizia e basta allora ciao marco ciao simone spenga almeno non è come tutte le altre live in cui devi farti noto per leggere però ragazzi preferisco quando c'è più gente ovviamente che ha le feed ancora che sono arrivate a 50 persone niente di che quindi eh Ale su tu puzio è colpo nostro ovviamente allora io c'è il tempo nero completamente nero nel bot tipo nel tempo nel tempo nel tempo uwe 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 sas usas seri sempre 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 ragazzi ora facciamo una bella gara così invito anche le altre persone bella raga 130 martino martino Ma qui non è Garrix Attenzione Allora Cristian non mi devi chiedere il permesso Permesso Una richiesta di amicizia AngeloA7656 Accettato C'è anche la banca 6876 E' che di ti Sì sì ma le accetto tutte le richieste Eh ma la musica si sente giusto? Non so proprio vedere Sì si sente Camo Camo sai quanto sto streamando? 10.000 di bitrate Si sente proprio di lusso Cioè si vide di lusso Ma si sente Si sente Ti sento Ti ho inviato l'amicizia Posso entrare nella crew? Sì ma E va in descrizione Sì ma facciamo una gara ragazzi E poi facciamo anche un LTS Una gara lezza TBL e tifon tibou Ragazzi Mi traduzione Fatto show Bella Benner live Benner live ct5 Questo è inglese Questo è inglese Ok voglio Bello st'inglese Fai l'attività caddicish Che non ce l'ho salvata Che non ce l'ho salvata Ok stai In questo sito Tommaso inviata l'amicizia D'Alex Il dd in descrizione Sì Ciao Matteo No no Ti chiedo se Mando l'amicizia Ma chi vuole essere amico tuo Alex Ma vabbè vai via Si si vede molto bene Stavo guardando io adesso Sì E dal fastidio che il telefono Quando apro la live Me la deve far partire in 480 La vita C'hai capito Non è che tu dici È in base alla connessione Ma sul telefono Pur c'è la fibra Non è che c'è un'altra connessione No Eh no Poi metto 1080 E si vede bene lo stesso Cioè inizia a caricare A botta il video così Beh a me Allora A me il video Si avvia in 144p Ah no a me in 480 Si vede molto bene Addirittura l'erba si muove Fluida Allora Adesso non è che c'è il gatto nuovo Deve farti fibo Beh Devo usci un po' dalla live Se dopo la via la fai Samuele e Gennari No Questa è la live Stamattina Non so a che ora ti connetti Tu Comunque Entrate raga C'ho 320 amici online E ci sono entrati 7 Va bene Allora Invitiamo Alex non mi arriva Cosa Ah Fosse Invitiamo Perché tutto è bugato il gioco Tutto Ah come Hai visto ieri che Su Destiny puoi trasferire i clan L'hanno messo da ieri Si ho visto Ma anche crearli Ma già c'è il clan Si no Puoi trasferirlo su Destiny 2 Dici che proprio cambia il sistema L'ho letto ieri sul Ti prego mi aspetti E ho visto To Simux No Cristian Sto già da assai in questa schermata Non è che posso aspettare Tutta la gente Ti chiedono che rango sei No Questa è modata ragazzi Questa è 133 Invece sul mio primo account Quello fatto da me È 300 Non mi ricordo 330 Sì Motivanti del rango alto Eh figa Perché se tu non è rango alto Si Si forte Nessuno Nessuno c'è Figa Ragazzi non entrate Io mi sto invitando Proprio a manetta Non entrate Cioè Sto proprio qua Guarda Bloccato a 9 persone Non entra più nessuno E c'ho online 320 amici C'ho online Non entra Ricordi che gli dice Che la sessione è privata Eh figure Perché il gioco Mi ha messo in privata E non entrano Figura Si Comento non sulla play Ragazzi Alberto Perlana Tutte queste cose qua Penalizzano questo gioco Capito Perché se tu Costi una sessione Ad amici Non ti dimetti Ad amici No Devi andare nella storia Rifar tutto a capo Le peride di tempo Emox ti chiede Quale avatar È sulla play La scimmietta Quella di Ape Escape Della PS1 E fin Morti Fai figo PS1 Ragazzi Avvio Non entra nessuno Perché se no Siamo qua E mi scogliono 42 spettatori C'è Vergogna Proprio C'è Però C'è Mi viene da ridere Per questo L'estate Secondo me Non Non bisogna Vuofa YouTube C'è capito Perché poi Queste cose Ti penalizzano Il canale Tanto Ecco perché E il video È peggio Ti dico solo questo Dice a Federico Che la sessione È arrivata Nel senso Che gli arriva L'invito Ma Ho capito Allora R7B No Tommaso Mandate l'amicizia D'Alex Io Mi prendo la Niro Anche se È fatto Pagliare Ma prendo la Niro Sei razzista L'altra volta La streamai di mattina Ne avevo 115 Giustamente L'altra volta Quel giorno là Era Magari Era santificato Dal signore Questa qua Sì Da te non me l'aspettavo No No Ok ragazzi No finalmente Siamo partiti Finalmente La mia Niro È fantastica Così Questa gara È particolare Molto Via Ok Perché Ma perché Non mi arriva L'attività del messaggio Ragazzi Ma che finisco Vado in storia Riosto Poi Entrate Perché È fatto malissimo Sto gioco E più Mettono Aggiornamenti Più Peggerà Quello è una cosa Che cosa fa questo gioco Ti chiedono come funziona la crew Perché uno non sa come funziona Eh ma non è che posso mettermi a spiegare Basta che fai richiesta Allora signori la crew funziona In descrizione del video di questa live c'è il link Quindi Non me ne frega niente Ragazzi Io sto cercando di Dare il meglio qua Che La Niro non è il massimo Per le gare Però comunque Ho visto che ci sono le astronavi Non so C'è una pala da bullying Che bisogna entrarsi dentro Non so che cazzo è Dettagli Alex Dettagli 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 Caffè Info speed Payback 80 euro Come sono costato un cazzo Ok Iniziamo No vabbè Info speed Payback C'è una grafica della madonna Eh ma Lo vendono a 79 e 90 Ma è pazzesco Cristo santo Pazzesco proprio Visto il trailer Dove stai usando la Mustang Nel deserto E tutta La sabbia Che ti sporca la macchina Ma io vado a prendere Una Spettacolare Comunque Non so se hai visto Ma stava lagando tantissimo In questo pezzo di gara Allora proprio a scatti Tipo 20 fps Stava andando No ma che cazzo è Oh Ogni tanto Il warride invisibile No ma non si vede Comunque Da Dalla live Che sta laggando Perché A me sulla prima Mi sta laggando tantissimo No no Si vede Si vede adesso Ho visto adesso Che è proprio assai C'è il pezzo dove stava l'acqua Lì Sulla rampa L'ha proprio Tutto a scatti Stava andando Sta cosa non esisteva Quando uscì GTA Per la PS4 Andava molto più fluido Eh troppo Proprio da caricare Ho mai visto il warride invisibile Sì Che cavolo è Che cacchino ho messo Comunque è figa sta gara Eh Guarda Volando sull'acqua Stiamo andando in acqua Stiamo volando sott'acqua Sott'acqua Sopra l'acqua volevo dire Voliamo sott'acqua E non andiamo sott'acqua Ah Mo è partito Ecco Che cosa ho preso mo Alex Mi accetti la richiesta di amicizia Sfimox Bello Che cos'è che ho Dove ho urtato Non so manco io dove ho urtato Ah Ecco Ho capito Ho visto nella live Dove ho urtato Vabbè La rifacciamo Bisogna andare dritti Eh Ecco dove ho urtato Vai 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 Oh ma è figa come è gara eh Peccato che è lagga Per come è stata creata Però dettagli Quindi Come è che ho urtato Non l'ho capito E allora Là stanno Dentro stanno quelli tipo Quegli spirali colorati Messi tutti vicini Sì Ti davano come ostacolo Praticamente Se li prendevi da destra Ah Invece andare al centro Non stavi In questo posto Ho svagato Adri quando Mettono i pacchetti Su Adri Ragazzi Non c'è Adriano In live Cioè come cacchio Lo devo dire È 4k Ma poi non è la voce di Adriano C'è differenza di voce Ma non c'è la voce Adriano è l'accento barese 4k è l'accento cotolettiano Che cazzo vuoi Coglione Che cosa Cosa Oh niente niente 4k c'è l'accento cotolettiano Oh io lo risposto La mattina si sveglia È già fattura col padre Quindi Sì sì Problemi Problemi La colazione A fare la fatturina Ciao a tutti Ciao Ti sposto in quel modo Ciao a te Oh ma la nero C'è la C'è tenuta di strada La tiene Nelle curve È molto pure Perché è nera Eh Come te Guarda che razzista Guarda Contro le macchine E fai schifo Madonna Vabbè Contro le macchine I neri che hanno più tenuta con la macchina C'è meglio no Tu che dici Eh Ok preparati al lag di nuovo Che sto andando nel punto di primo Che bello Aspetta eh Appena vado là sulla piattaforma Che inizia a andare tutto a scatti Comunque terza posizione Non male Non male Ecco Guarda guarda Quanto lag ha Di nuovo Tu 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 Che cazzo è Tu 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 Pulite la figa La verite Ciao Alex Giusto sono andare Bello Aspetta Ce la potrei fare Ma quanto lag ha il fumo Tutto al lag Perché ma non riesco ad entrare dentro Non dire che a te che la console Ma 4k è gay, Federico ti banno la mamma No ma non ci credo Mi manca una cazza per la gay No Alec In realtà non è che sta laggando Tu che stai laggando, cioè le console non laggano Ah la connessione fa laggare la gara In ethernet Le console sono dio Cioè il computer non è niente Le console sono tutto, non laggano Me ne sono andato in acqua, non sto capendo niente Veramente Basta non sai giocare Rifacciamo sto pezzo, guarda che anto lagga E sai cos'è che fa la gara? È l'acqua che tipo trapassa la rampa Raga io non tocco niente E ma me ne vado lì Cioè incredibile, me ne vado sempre lì fuori E poi non so neanche dove sta la rampa Devo andare io a mia testa Devo andare a capire io dove è che sta la rampa Allora, ti spacchi in femmode E ti rispondo io alla domanda Sì, sì, rispondo da parte di Camorra Alex Nub Eh, ti chiedo non so se è foscio, sì, sì Eh, meglio mi chiamo 4k di più Eh, eh Infatti adesso è foscio Eh, ciao Steve Ciao alla fine del mutandone Eh, ciao mi sono appena svegliato adesso Bello Niente, praticamente se non la fai veloce Non puoi fare quel punto là Non si può proprio fare No, poi vanno Allora Piccolo Steve che ti banno Uh, tensione Eh, ma il problema è che Qua sta sarà più visibile Che devo andare a capire Ecco, quindi Stesso problema di Ma poi il fatto che Prima l'ho fatta La prima botta, no? Ora no Solo una volta Che bello, eh Che bello Yes, yes Quanto è bello, eh GTA Quanto è bello Aspetta C'è qualcosa Che mi fa sbandare Non so cosa Gli altri no A me si Cioè in quella cosa invisibile Che prendo Mi fa andare alla macchina sinistra Non so che cos'è Però capi Eh, no Siete che non sai giocare Alex, basta Basta Volevi vedere Che mi banno Tutti due da TS Cosa? Forte tu No, no Ci penso che mi banno Che a modo No, no Tutti due insieme No, no, no Ok Alex C'è il World Rider Ti lagga troppo Ragai Meglio Non è arrivato Cioè È veramente incredibile Che tu vuoi fare tu? Non è che tu dici Sbagli Dopo me la prendi No, non vedi niente Devi andare a testa Capito? Alex Cioè vorrei che lagga troppo Sì, Andrea Purtroppo Vorrei che lagga troppo È la sua connessione Che fa laggare È invisibile E non vedi Dove vai Giustamente, no? Se sei fortunato La fai bere Sennò rimani là A vita Così che funziona Posso darti un consiglio Alex Se non sai giocare Vai via Giusto? Quanto fanno pagare I server della Ubisoft? Tantissimo Non solo i server Ma c'è anche un gioco Che fa cagare Non ti preoccupare Ghost è vero Che lo fa la Ubisoft No, no, no Non ti preoccupare Non è solo il server No, una cosa Ragazzi Ragazzi è una cosa Che mi faceva Sbandare a sinistra Perché una volta Non me l'ha presa Ma me la deve prendere Per forza Dove la prendi? Nel culo Ah Nel culo Nel culo Nel culo Se il video Nel culo Io dovrei andare in storia E rifare la sessione Perché sennò Ciao Eh sì Cioè dovevo fare però Che tu puoi farlo Anche dal Dall'online Fa una che Una Cioè come se ricarichi l'online Però lo fai Mi dice se sei in privata Mentre sto in caricamento La gente si deve unire Come si fa 4k Non lo so Manco io Ma quando sono Flocci francesi Tanti Guarda Basta che vai Sulla applicazione di GTA Gli fai disinstalla Se gli sovi tutto il problema Disinstalla Gli sovi tutto il problema Eh E trovi anche Lo sposto Ti banno Attento No Attento Attento Oh attento che ti banno Tutto tu so Avrete Rainbow è un gioco bellissimo Eh lo so Infatti tipo la mattina Mi metto nel letto E ci gioco sempre Ah bello Sì 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 No no Ce l'ho sul cellulare Ho proprio capito Anche io mi chiamo Steven L'apri non mi basta Sul cellulare lo voglio anche Accettiamo Ok Lì avete anche Tu l'hai comprato Sia per il computer Che per la Playstation Sia per l'Xbox Che non hai Per la Switch pure Eh sì Che non è Però dettagli Allora Mi fai speed Come non c'è 4k Oh Cazzo quale è questo Mi voglio picchiare I boss Mi vogliono picchiare Rifacciamo la sessione Anche io mi chiamo Steven Attenzione Adesso Ciao Dragon Games Bella bella Mi chiamo 4k Secondo Crucio Channel Perché 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 Ragazzi Mo Rifacciamo la sessione Figa bordello Figa bordello Trovo Dragon Games Lack bar Andiamo al bar Sì sì Andiamo sempre al bar Allora Rifacciamo la sessione Ah comunque Tanta roba Battlefield 1 Trovato Tanta roba Sessione degli amici Chiusa Vai Così mo l'invito Cioè anzi Nella chita Is this thing 4k Sì Is this thing Sì 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 Sempre Starix Sterminator Sperminator Federico Menilio Eh eh 4k Sì sì Allora raga Aspettiamo che carica qua Cintoni 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 Fd vuole essere messo in term out Scatolo gamer Bella Scatolo gamer Bella Bella Bel 9 Sì sì Attenzione di ban Ok Io non so GTA come fa ancora A intratenire la gente Si vide anche Dari spettatori No perché Ci sono persone Non faccio nomi Dicono che È divertente C'ho giocato Sai cosa ho fatto Sono andato su Opzioni Disinstalla Quella era la giocata Più bella Che ho mai fatto Quella era la nuova modalità Che hanno giunto Eh sì Non lo sapevi Guarda Aspett che competizione Allora Sì perché Si sta alla fine Una competizione Raga Ma dovrebbe arrivare A tutti Perché tu non si sale A livello agonista Eh non lo sapevi Te lo faccio Allora Allurea Allurea Che restante Vediamo Allora Non lo dici Capito Sto entrando Raga tanto Allora sono 60 minuti Ok Sì Ah E' galbo Cicciolina Colison spiral Cavallino Bella questa Bella Cicciolo 10 Vai Dimmi Alla spiega Alla spiega E cosa? Cavallo Cavallo? Eh Sì Quello lo adotti tu Ce l'hai a casa tua Perché 58 su 85 Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel like Sì Aspetta Voglio provare una cosa Vai Steve Prova Prova Alex tu lo conosci il film Tomorrowland Sì È bellissimo Io l'ho visto il film Bello Ho visto tre volte Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Mettila perché poi Non somiglia agli altri Eh Non va bene Deve essere uguale Cazzo Non c'è perché babbara Che lo fa Sì Io voglio provare un'altra cosa No Te lo vuoi fare Guardate Sto invitando Ok In shock Po 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 Bella Bella Zeta defensive Aspetta Eh Sì Sto aspettando Vai Entrate Ragazzi Sto invitando Ok Mi inviti tutto Sì Mi inviti a metà Alex Mi inviti anche a me No Devo fare la foto Gli spettatori E mandarlo Nel canale di telegram Per far vedere La gente Quanto sono berri No Che poi no Su telegram Stanno 500 persone No Di cui Pure Quei su telegram Non se ne fregano Assolutamente niente Eh Allora Qua stanno entrando Sì Aspetta che Chiudiamo la sessione Ma che Tipo Il bello Che poi Effettivamente Quelli che ti guardano Messaggi su telegram Sono quelli che vengono Effettivamente Sì Magazzi Ma si Visitiamo quelle notifiche Giusto per raccontare Intentare capito Sì Poi devi vedere se ha un'angola telegram vogliono Sì Ok Ok Quanto è un po' toccaffè bello come canale? Cioè Tu vai da me? Oh Canaletella che mi intendo Babbo Ma io sono Ok Lesbiche Quanti siamo 18 su 30 No Stanno ancora entrando Non è arrivato l'invito Ragazzi Non è colpa mia Ma è il gioco Che è fatto di merda Quindi Vai Oh zio Ho fatto male Anzi Giusto Ciao Ciao Di Steve Fly Si capisce Ah bella battuta Non vi sto capendo Che state dicendo Quindi Lascia stare Cosa che non devi capire Va bene Tu non hai capito niente Va bene Tu non hai visto niente Secondo me Non capisco Le persone Che Che dicono Che GTA Ancora fa divertire Non faccio nomi Ma ne stanno Visto che è monotono Ci sono sempre le stesse cose Dove sta la novità Che ti fa L'intrattenimento Dove Guarda che ogni volta Che metti una macchina nuova Cambia il gioco Del tutto Cambia Diventa Diventa Già stiamo a GTA 15 Per una macchina Cambia il gioco No Solo Una moto Da quanto tempo Giochi a GTA Credo che da quando sei uscito Che non gioca Yes Allora Infatti siamo a 25 su 30 Stiamo ancora Dove il mezzo Sono già entrati 6 Sì ma dopo che mi lamento Però se no mi lamento Non entro Non c'è capito Non è quello Non ti da lamentarti Sì sì Ah Una volta Vedi più spettatori Su Destiny Che su X Sì è vero Vedi che la la video Quella che feci su questo canale Mi ha fatto già mille visual A mille sta Finchia Sì E feci tipo 60 spettature All'inizio Quando partì Che manco ci sono arrivati Questa live qua Capito Cioè vedi come stiamo Proprio vestivare Allora Benissimo Ciao Poi YouTube Che le notifiche Anche se ti attivi La campagna Non te le manda Capito È la scoperta Questa cosa qua Sì sì Totalmente Appesantito Che proprio Non le manda Capito E non risolvono Comunque 27 su 30 Ok Stiamo partendo Raga Finalmente Ho avuto problemi di rite Che pare la rite Va bene Xbox One Run and gun Fox Sound 1 o 0 Io non ne faccio glitch Perché non mi interessa Sinceramente Non ho bisogno Di avere soldi Quindi Vorone No Steve Le live vanno di più Dei video Se faccio i video È ancora peggio Proprio niente Non vengono proprio No Non è il problema È l'estate L'estate Secondo me L'ho bisogna fare YouTube Te l'ho detto È l'estate È pochissima gente Sì sì Cioè Tu dici Se non lo fai Poi diventi inattivo No ragazzi Se lo fai è peggio Perché YouTube vede che Fai poche visualizzazioni Pochi spettatori Ti penalizza il canale È così che funziona E quindi poi Ti va andare sempre peggio È meglio non fare niente Che fare le cose E andare male Capito Ti vinti vai No perché c'è gente Che se ne va in vacanza Inizia a settembre a far video La meglio cosa La fa Quelli là la fanno Veramente Te lo giuro Allora Io ero Io ero a Moddaro Ero a 100 milioni E li ho finiti Sono costretto a fare glitch Io ero a Moddaro Caldi Scisce piccola Ma figa Io ero a Moddaro Io ero a Moddaro Anch'io c'avevo 150 milioni E mi sono finiti Ero finiti Sì Normalmente i lag Quando stai in questa sessione Qua lagga tutto No no ma chi è lag? Ma chi è lag? È lag quando stai nella Cusa dei personaggi Un robot sembri No Ale Quella è la chiesa Che ti dà tutto Le campane che li so sentite No? Ma vuol dire che sta gara Tipo che vai là Finisci l'ispirale Ritorni indietro E vinci vedi E così vedi Guarda Uno Sì Federico È uscita una nuova competizione Su GTA Yes L'abbiamo fatta prima ragazzi Non è È normale Non è brutta Né bella Quindi Ci sono di quelle La macchina La macchina Non è Dovrebbe sopprimarla Con la macchina Ovviamente Madò Che troll Che gara trollosa Cioè guarda Mi sono incriccato Solo io Solo io Guarda Solo a me Solo a me Che sfiga Guarda Che gatto Tutto da cavo Solo io Solo io Per forza Io Capito Perché Perché sì Solo io Perché tu stai Ale Sì sì Bello Ho anche mezzo baggato Dentro la macchina No Devi avviare Perché se no Non funziona più Capì Si incricca Si incastra Che cosa Nella macchina Il reale Se lo volevi fare apposta Non ci uscire No No Perché non trovo La T20 Sui due siti Di auto Sarai l'unico Al mondo Che non la trova Ma T20 Si trova Legge Di motosport Vai sotto Vai sotto Di motosport Di fatti Di vendere un embolo Per comprarla Però Ok Devi vedere un rainbow Un embolo Steve gamer GTA non fa per te Non è che non fa per te È una cosa Di essa la cosa No Perché Ti spiegano Allora Quando tu Perdi una gara Non fa per te GTA Quindi lo devi Di disinstallare Perché poi Le persone Che non giocano Manco dal day one No L'hanno comprato i piedi E GTA Non fa per te Alex Pochi spettatori GTA Non fa per te Però C'ho Più o meno Mille video Solo di GTA Non fa per me No Non fa per te Ma ragazzi Io lo ammetto Lo porto a forza GTA A me non fa più divertire Da tantissimo Assolutamente È una paranoia Devi dire che è bello Devi dire che è bello Ciao Steve gamer È una macchina Fa cagare Bravo Olè Bravo Bravo Tu Ciao Ma Io Io a GTA Gioco solamente In live O se devo registrare Non gioco mai Se non faccio queste due cose Mai Gioco ad altro Mi diverto molto di più A FIFA Ti faccio un esempio Per esempio Gioca a Remus Certo Non gioco molto Che arrivo C'ho il diamante Sono a Rainbow Ah Kamu Ti ricordi il discorso di ieri Ecco Mi dai il moderatore Per favore Grazie Ragazzi Immaginate se qualcuno Che ha comprato GTA Dal All day one Ci gioca ancora Madonna Eh io Steve Io GTA ce l'ho Non dal day one Da un mese dopo Del day one Purtroppo Gioca ancora Purtroppo Quindi Eh ma ci sono altri giochi C'è Rainbow Six C'è Rainbow Six Potresti giocare a Ghost Recon Sì così Con cinque Con cinque persone Con la candela in mano Che lo guardano Se ne fa Una ventina di spettatori Su Ghost Recon Purtroppo Ragazzi Su Youtube funziona così O GTA O tutti i giochi che esistono Fanno schifo Capito Funziona così Anche Gash Bandico Cioè Cui giochi lì Boh Cioè Mi disiscrivo Con un po' ti più Ehm GTA Cosa c'entra Se ad una versione Diverto in GTA Quanto? Sì da Non ti ho capito A me non diverto più A questa persona Gli piace GTA Ok ma quando Quel gioco Diventa quasi un dio E ti prendi insulti Se dici che non ti piace Una determinata cosa Lì si Si va un po' fuori Lì si va un po' fuori Cioè Dal piacere su GTA Vai O GTA Dove essere meglio Migliore Se va ci vuole Un aggiornamento al mese Là già Ah come Minecraft Anche Minecraft C'è Destiny Che c'entra Anche Minecraft E te ti ammene curato Beh E' un'altra cosa Ma anche Minecraft C'è un aggiornamento al mese E la gente che comunque sta Su Minecraft Stavano gli aggiornamenti Ogni cinque mesi Ogni quattro mesi Non penso che la gente Stava lì ancora E si scazzava la minchia Capito Quindi Robbiamo i bloccati Mettono i aggiornamenti Troppo tardi su GTA La gente si rompe i coglioni Capito Non lo guarda manco più su YouTube Quello è il fatto Un aggiornamento al mese Le persone rimanevano A giocarci No Non lo fanno Perché è troppo complicato Mettere una macchina No O mettere Cosa è nuova Ma è uscito un nuovo gioco What Dogs 2 Quindi Che cane 2 Significa no Che cane 2 Mi saluti Ciao Facchi il viso Io non riesco a pronunciare i nomi delle persone Che lo giuro Non riesco Ma il bello che Facciamo un'ultima attività Dai Cioè ragazzi Il bello che voi dite Portare anche altri giochi Ma poi quando li portano Non li vedete Non li vedete Quindi non dite poi Portare altri giochi Portare altri giochi Lo dicevo Le persone E poi quelle persone non vengono No Infatti Non so neanche vedere Perché il portare altri giochi Lo dicono 2-3 persone Ne un di più Capito E poi quelle altre persone non vengono No Infatti Assolutamente no Preferite Io compro Formula 1 2017 Sarà bello Sarà bellissimo Io mi ricordo Quando stavo su PS3 Un gioco che mi andava Sai qual era Gran Turismo Mi facevo visual Su Gran Turismo Ti rendi conto Perché comunque La gente gli piacevano Vedere le macchine Così Gran Turismo Mi facevo visual Su Gran Turismo Porta solitario Perché Solitario Ma lo andiamo a fare subito Allora Non so neanche io Perché l'hanno scritto Ma no Steve Veramente l'è scritto male Lui pensavamente Che si è scritto così Minchia bordello Avalanche Minchia bello Giusto Che cos'è questo? L'abbiamo già fatto Si O O O Porta Prato Fiorito Non so se te li reggi Eh Steve Per reggere Prato Fiorito Un bel computer Ci vuole Eh Gente che Si fa computer Da migliaia di euro E ancora non riesce a leggere Prato Fiorito Sì Vero Vero Alex Grand Turismo Sì 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 Eh Eccomi Eh cosa stai Grand Turismo Non è che c'ho tutti i soldi del mondo Io No non è vero È gratis Aspettate ti le lanciano dietro Ma non è trivago Sera una soldi Do vado Madonna Alla battuta Più peggio Allora Vediamo un attimo qua Ok Marco Tranquillo Cioè sta battuta È uscita Quando è uscito trivago Cioè Qualcosa Trivago Senza soldi Do vado Facciamo questo dai Pannatelo Anno Quale è il Formula 1 2017 Ah ok basta No Federico no Perché non Non ne ho mai avuto uno Di Formula 1 Pone l'ha detto su Telegram Sì 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 Tanta gente Per 10 Sì 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 Io poi non capisco perché il su PS4 L'hanno messo a pagamento online E su PS3 Cioè nel senso Il senso Non so manco io Da quegli altri Nella Microsoft Ti sono fatti i soldi All'online Allora Alessandro porti Altre live di GTS Al Andreas Domani No Le farò raga Non vi preoccupate Le farò Perché comunque sono carine Ok Partito tutto Io c'ho la terza La 3 Ma la mia parla Dice che si paga No Non si paga Su PS3 No Ho già capito La tua età Faki il base Allora Ciao sono Ale Gamer Bella Perché più ACAB Sì Sono entrato Per quelli della Rockstar Così Rockstar Rockstar Allora Allora Noto che hai problemi oggi Camor Io In botta Ma sempre in botta Camor Eh sì Amor no Dovitare Di sbadigliare Non so sbadigliare Ma era uno sbadiglio No ma che È un mostro che si svegliava Si sbadiglia No 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 Sono stato impossessato In questo Ok c'è un dump di Trudine Perché Un dettaglio Lui è donald Ok non lo banno io Tranquillo Posso giocare con te Si gioco Ma andai amicizia Poi Se pari per caso D'arriva l'invito Vediamo un po' Come vuole Come vuole Vai dump Che ce la fai Vai dump Vai donald 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 Tu vuoi Camo ti puoi autobannare No Vai Bzz Beh Alex Ho appena Ho appena messo GTA L'ha appena messo Nel disco Nella play No l'ha appena creato Però Mi si è buttato il personaggio Il personaggio è subito Nella sola Vai dump Ok tutti giù Ma che bordello Possiamo scendere pure noi giù A fare gli splattini Ma che casino qua veramente Io sono rimasto Come fanno a esplodere da sole le cose Vabbè Dettagli Dettagli Ma poi non capisco Come fanno loro a prendere le armi Ti ho vinto Si Oh io sono rimasto in vita Bella Brutta Ciao Federico Mi si è buttato il personaggio Camora grida come una femminuccia Eeeh Ma Camora è una femminuccia Per questo grida come una femminuccia Eeeh Cazzo la minchia Io ho capito Non so capito se stavano gli aggiornamenti Vi fa vedere cos'è A parte che si cresceva di più su youtube Vabbè raga E' una volta che si è passata la sfida Poi beh Ok A dopo Bella 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 Steve Fede gamer YouTube Usare Disconnected E' un mito Giusto Wastogs è uscito da un anno E devi fare l'hackers Si è vero però E' divertente Wastogs Perché alla fin fine c'è un bel po' di cazzia Di gioco Sto volando tipo Lo dettaglio Alex dettaglio Guarda che laggano tutti i pezzi che c'è avanti I container Tutti al C'è la cassa laggando tutto Comprende Ormai il GTA è troppo pesante Per una console Ma in sé il GTA è troppo pesante Perché Io c'ho su PC ma lagga anche lì Cioè Veramente E non è che il PC sia comunque Una merda Ma poi Non riesco a capire Come faccio a prendere le armi Se non ci sono passaggi Per andare alle armi No ci sono passaggi Se non ci sono passaggi Ma come laggano Madonna Ho scansato tutto praticamente Tranne il dump avanti Che sta là E' uscito Wastogs Sì Steve Cioè raga Vi rendete conto quanto lagga Perché queste sono cose Che dalle persone Che non sono supportate dal gioco E quindi lagga Non è che lagga Non è che lagga E' uno scatto tattico Cioè devi capire Perché così ti confonde Capito Sì Ah Sì Si chiamano scatti tattici Aspetta che devo cercare Ti fanno confondere Ok Scalzato tutto Moto No 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 Ce l'ho fatto Non riesco a capire Come si prendono le armi Aspetta là forse Non riesco a capire Lo giuro Non riesco a capire Come si prendono le armi Allora dovevo capire Allora da qua c'è una strada Credo Ma tipo cadiamo tutti giù E i dump che volano giù male Ma eccole Ok abbiamo preso le armi Sono solo un cecchino Lanciarazzi stanno Sì Ok Si stanno prendendo Tutti gli altri Non prendo un cazzo Adesso arrivi Le armi e muori No vabbè raga No il fatto è che non riesco A prendere un lanciarazzi Quello che sta avanti a me Che si prende tutto lui Bello Veramente bello Ok mo l'ho preso Dai Ah steve Muoio steve Devi muoia male Ok vai Quanto Minchia Ah stanno gli RPG anche RPG Ok Così Cazzo Porta steve Che gioco è Quello là di Sheila Manco Manco sparare Sono già morti tutti Manco sono riuscito a sparare un colpo Già erano morti tutti Gli avversari Ti capi? Sono molti tattici Cioè sono cadaveri tattici Capito? Bordello divino Dunque ragazzi Appena finisce Stabilità Concludo Mega puzza Lui quindi Sì 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 Sono carl 57 Ok si arriva Ah ok Perfetto Ok Piccolo simoz Ok terzo round Quanti no Spero che Non me ne ho manco accorto Spero che non mi si bughi Io gli metto sempre due Un po' di rego Perché Ah il piccolo Marco Scrive suca Nightbot Povero Il mio nightbot Il mio nightbot carino Non so Ok Questo non gli piace Questo dump Lo devo prendere io Capito Boss Potete No uno Non si è preso Il dump Si è andato a prendere il mio Io lo prendo il suo Vabbè Che cazzo Ok Non lo so manco io Perché Vabbè Dettaglio Ok Ok No inculiamo qua i pullman Eh giustamente Si fotta il tuo Tutti incriccati qua Eh si si Dai Dai che ce la fai Ok Fatto Quindi l'ho buttato Bisogna buttare tutti questi Ok Ok Eh quelli la bisogna buttare anche Ok Che viva l'Africa Gli stanno andando a fare lui Perfetto Viva l'Africa Sempre Che Dio lo benedico Viva l'Africa Stai scherzando Si Oh 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 Dai Mi sto spingendo pure il dump giù Non lo faccio mancare niente Eh ma stanno già arrivando Sarà impossibile Ma comunque Comunque ti hai iscritti Ai Adesso sono iscritti per sombra Adesso Si Non ha senso C'hai capi Tantissima gente Si Vabbè vado io Tanto Anche se non c'è tanto Shenshu Povero dump Ciao Che cazzo No ce l'ha fatto Peccato E vabbè pazienza Ma è facilissimo Scanzarli Comunque In questo ETS Molto 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 Facile Ah Qua praticamente Te ne cadi in acqua A parte Lancia Ciao Via Hai tirato sotto qualcuno No no Mi sono avvinato Comunque ragazzi Per questa live è tutto Grazie per le persone Che ci sono state Vamente Che stimo tantissimo Per questa Per questa live Ah addirittura Scusami Per questa live è tutto Ci becchiamo prossimamente Cosa ne pensi Della beta di Disney 2 L'ho finita tutta Molto 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 bella Veramente bella Noi ci becchiamo Prossimo video Prossima live Bella raga Ciao